Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Perla della Nave, chirurga orale implantologa e parte dell'equipe di Vericata Implantologia Immediata. Questa equipe svolge la sua attività in Spagna, nell'area di Valencia e prestissimo anche a Madrid, e si caratterizza per la sua dedizione esclusiva alla chirurgia orale ed implantare. Quindi come portavoce, in questo caso, del nostro team e in collaborazione con Alba di Implantology, apporterò il mio contributo realizzando tre moduli webinar e condividendo semplicemente con voi quella che è la nostra esperienza clinica. Nel primo di questi parlerò soprattutto di rimodellamento osseomarginale e predecibile, di quale e quanta sia l'importanza che assumono in questo caso sia il tipo di impianto di abattment che il tipo di tecnica chirurgica e il protocollo di fresato. Nel secondo parlerò di implantologia post-estrattiva che secondo la nostra filosofia è necessaria sia per la compressione dei tempi di trattamento che per il mantenimento dei tessuti. Vedremo come questa tecnica si sia enormemente evoluta negli ultimi anni, soprattutto in termini di affidabilità e di applicabilità clinica e vedremo quali sono i fattori assolutamente chiave per il suo successo. Infine nel terzo e ultimo modulo parlerò di atrofie bimacellari severe, presentando anche alcuni casi clinici. Parlerò soprattutto dell'impianto zigomatico e dei suoi vantaggi per il trattamento del mascellare superiore atrofico e per quanto riguarda invece le mandibole gravemente atrofiche vedremo come sia possibile realizzare una riabilitazione fissa su quattro impianti e di quale sia l'importanza di un approccio chirurgico squisitamente rispettoso e attento nei confronti dei tessuti duri e molli che in caso di grandi atrofie già di per sé sono delicati. Quindi che dire attendo a tutti coloro che fossero interessati e auguro a tutti i colleghi una buona giornata. A presto!